Iniziate già a mentalizzarvi su questa cosa, iniziate ad osservare tre cose fondamentali. Posizione dei piedi quando tirano, perché io noto spessissimo i ragazzi tirano giù, io sto accentuando ovviamente. Altra cosa, dove finiscono i piedi dopo che hanno tirato, perché per esempio questo è il tiro giusto, questo è il tiro sbagliato, ok? E un'altra cosa fondamentale è questo. Per esempio, lui ha fatto una cosa che normalmente i ragazzi giovani fanno poco, cioè lui è veloce nel tiro. Ma la velocità del tiro, secondo voi, fammi vedere un tiro veloce e fammi vedere un tiro lento. Facciamo questo gioco qua. Adesso io te la passo e tu mi fai un tiro lento. E poi mi fai un tiro veloce, ok? Adesso fai un tiro lento. Adesso mi fai un tiro veloce. Ok, questo è bello. Pronto, apri un tiro veloce. Ok, esattamente questo, quello che tutti pensano, è questo. Posso chiedere secondo voi perché? Per me questi due tiri erano uguali, non era uno veloce o uno lento. Il tiro veloce non è un tiro fatto in modo scattoso. Un tiro veloce è un tiro dove io tengo la palla in mano almeno il mio tempo possibile. Qualcuno di voi si ricorderà dal lì pace. Aspetta, aspetta. Tisco, tisco. Allora, il tiro lento è questo. Cioè, carico, quanti vedete che caricano perché magari sugli scanti non ci arrivano? Questo è un tiro lento. Ok? Quello che ha fatto lui ha fatto il tiro. Lui ha fatto il tiro più lento. Ha fatto lo stesso tiro, però uno lo ha rallentato e l'altro lo ha fatto di scatto. No? La lentezza del tiro è determinata da quanto io carico. Con le gambe in teoria è giusto a metà perché le gambe in teoria uno dovrebbe averle già pronte per caricare. E' quando ricevo la palla, non la basso, cioè, faccio questo, faccio questo, ok? Questa qui è l'essenza della palla canestro assoluta. Cioè, è quello che ha reso gli slavi negli anni 70 e negli anni 80 migliori al mondo, nel tiro da fuori. Migliori degli americani. Perché loro erano veloci, appunto. È verità. Quindi noi, se iniziamo a segnare i ragazzi, questa cosa, questa cosa, io ho visto tanta gente che gioca in D, per esempio, e fa 8 su 10 da 3. Si è libero, no? Inizia dello scarico. Un'altra cosa è Basile che ha sempre l'uomo attaccato alla maglietta così per 40 minuti eppure segna da 3 perché esce dal blocco. Perché? Quando esce dal blocco, intanto esce dal blocco e quando passa dal blocco aumenta la velocità. Normalmente i giocatori fanno questo. Arrivano veloci e poi fanno per mettere a posto i piedi. E già lì perdono un secondo. L'altra cosa che fanno è, quando ricevono la palla, devono caricare. Ecco, io ho fatto, sono passato da un estremo all'altro. C'è la via di mezzo per migliorarsi. Quindi, quello che io vorrei da voi, adesso quando tirate, è che tirate il più possibile in questo modo. Cioè, non ha passato il pallone e quindi la forza da dove si deve prendere? Grande. Quindi capite da soli che se non avete la forza sulle gambe per tirare da 3 in questo modo, da 3 non si tira. Si inizia a imparare a tirare le 2 e poi un po' alla volta, con i pesi, con gli esercizi, con l'età e con il po' e quant'altro. Adesso metto la forza da 3 e poi faremo lo stesso identico tiro, solo che avremo la potenza. Luigi, il golf dice, per la perdare più distanza devo cambiare la mazza, non devo cambiare la forza del movimento. Nel golf non si usa la forza, si usa il passaggio, no? Il movimento è sempre lo stesso. Cambia la lunghezza della mazza, la distanza cambia. Nel caso della pallacanestro non abbiamo la mazza, ma abbiamo le gambe. E' logico che io se tiro da qua, piegherò le gambe così. Se tiro da qua, piegherò le gambe così. Al tiro è sempre lo stesso.